Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale. Oggi parliamo di Ubuntu New Linux. Ubuntu, come tutti sappiamo, è una distribuzione New Linux basata su Debian, basata sul ramo instabile dello sviluppo di Debian. È una distribuzione abbastanza longeva, è nata nel lontano 2004, e si prefigge come scopo quella di avvicinare quanto più possibile l'utente che non conosce il mondo New Linux al mondo del pinguino, mettendo a disposizione un sistema abbastanza user-friendly. Ubuntu ha dei rilasci semestrali, in effetti vedete attualmente è in vita la Ubuntu 2104, dove la prima cifra indica l'anno di rilascio, la seconda cifra indica il mese di rilascio. Il rilascio delle nuove distribuzioni avviene ogni sei mesi, quindi in un anno avrete sicuramente due rilasci della distribuzione. Potete passare ovviamente, se io installo la 2104, in questo mese, nel mese corrente ci sarà il rilascio della 2110, posso passare tranquillamente dalla 2104 alla 2110. Ogni distribuzione ha una vita di nove mesi, quindi se io installo oggi la 2104 e tra una o due settimane esce la 2110, posso tenermi ancora alla 2104, però devo stare attento, nel senso che so che tra tre mesi, perché da aprile a nove mesi successivi, quindi nel mese di dicembre, sicuramente il supporto mi scade e quindi devo passare per forza alla versione successiva che è la 2110, quindi l'aggiornamento o lo fate subito oppure il sistema vi avvisa e vi comunica che la distribuzione non è più supportata e quindi dovete fare per forza il salto di release. Oltre a questo esiste una Ubuntu speciale che viene rilasciata ogni due anni, negli anni pari, è precisamente nel mese di aprile, che è chiamata LTS, si chiama la Long Time Support, esatto, ha un supporto di 5 anni ed è una versione di Ubuntu più stabile, quindi quando esce una LTS vi consiglio di installarla. Attualmente quella è in vigore, sicuramente è la 20.04, vedete la 20.04, questa è la pagina di download, quindi potete scaricare la 21.04 attualmente in vigore o la 20.04.3 come punto di rilascio LTS che dura due anni. Quando installate la LTS ha un supporto di 5 anni, ogni due anni potete aggiornare alla nuova LTS. Non la vieta però che da una LTS passiate a una versione di release normale. State attenti però che se installo la 20.04 e tra un po' uscirà la 21.10, per passare dalla 20.04 alla 21.10 purtroppo devo fare tutti i salti di release intermedi. Quindi quello che vi consiglio è di installare la LTS e di fare il salto solamente di distribuzioni LTS. Sono più supportate, sono più solde e hanno meno bug. Torniamo indietro, questa è la pagina di download, poi vi lascio il link in descrizione. Quello che mi piace di Ubuntu personalmente è la sua comunità. È italiana e ovviamente in altre lingue. In tanti usano Ubuntu, secondo me è la distribuzione più usata, anche se su DistroWatch vedete Ubuntu è al sesto posto. Io penso che questo non sia un dato veritino. Perché? Ve lo spiegherò dopo quando andremo a vedere le derivate. Perché Ubuntu ha una possibilità di download e di varie sfaccettature per accontentare anche le persone più bisognose, nel senso che accontenta anche le persone che vogliono un ambiente grafico un po' più elegante o persone che hanno, non so, un computer meno performante, Ubuntu mette a disposizione anche rilasci di distribuzione di derivate veramente efficienti. Ve lo spiego, anzi ve lo spiego ora. Vedete qui nella pagina di download, scarico subito. Qui c'è Ubuntu e io lo scarico tranquillamente. Quindi è la Ubuntu ufficiale oppure c'è il download delle derivate. Quindi qui nella classifica viene suddivisa Ubuntu con, non so, qu'Ubuntu c'è? Andiamo un po'. Oh, è andato via. Dovevo tornare indietro. Esatto. Vedete c'è Ubuntu, quindi le divide le varie, anche le derivate, l'Ubuntu, eccola qua. Quando per esempio di Mint, di Linux Mint, che è al quarto posto, non vengono divisi i download in base all'ambiente grafico che lo scarico. Vengono, diciamo, accorpati in un'unica distribuzione che si chiama Mint. Anche Ubuntu ha delle derivate in base all'ambiente grafico. Quindi secondo me Ubuntu è la distribuzione più usata in ambiente Linux. Vediamo il download delle derivate che cosa offre. Offre degli ambienti grafici sicuramente diversi. Usa, qui è possibile scaricare la Kubuntu, che ha un ambiente grafico KDE molto elegante. Poi diciamo che Xubuntu e Ubuntu sono di soluzione orientate verso PC abbastanza, diciamo, vecchiotti. In effetti hanno un ambiente grafico molto veloce e scarno, nel senso che hanno la possibilità di girare anche su computer datati. Praticamente consumano poca RAM. Vedete che Ubuntu mette a disposizione anche una distribuzione per gli appassionati, i professionisti, per quanto riguarda il video editing, la grafica, oppure di creazioni multimediali, anche la fotografia. Poi c'è Ubuntu meet, che è un ambiente grafico, desktop environment, si dice un ambiente Linux, che ripropone, diciamo, un po' un fork di GNOME. E poi c'è una nuova derivata, budget, che usa questo ambiente grafico molto leggero, che a me piace tantissimo. Anche qui potete scegliere se scaricare la 21.04 o la 20.04 LTS. Torniamo indietro. Quindi abbiamo visto le derivate con i vari desktop environment. Ubuntu, invece, viene, una volta che la scaricate qui dal download, viene installata con un ambiente grafico di default, chiamato GNOME, GNOME Shell, che è uno dei più usati in ambiente Linux, insieme, ovviamente, anche a KDE. In precedenza, Linux, dalla 10.10, aveva, diciamo, customizzato un po' l'ambiente GNOME, aveva creato un fork chiamato Unity. È stata usata, forse, per sette anni, fino al 2017, sì. Nel 2017, gli sviluppatori di Ubuntu hanno deciso di fare un passo indietro e rilasciare di nuovo Ubuntu con un ambiente grafico di default, con un desktop environment GNOME. Quindi, attualmente, se scaricate Ubuntu, avete il DE, desktop environment GNOME, che a me piace tantissimo. Non si differenzia tanto da Unity, anche se Unity a me piaceva, però, diciamo, si è tornato indietro e si è voluto tornare un po' all'origine. Ecco qui, MATE, nel download delle derivate, MATE è un ambiente grafico che va a riprendere quello che era il GNOME 2. L'ambiente grafico veramente, per me, è perfetto, anche se GNOME è veramente abbastanza moderno, piace tantissimo. Però GNOME 2 a me piaceva tantissimo, molto più del GNOME Shell attuale. Quindi, un po' per i nostalgici, esiste sempre MATE che ripropone un ambiente grafico abbastanza, diciamo, datato. Qua, come vi ho detto, ci sono, vedete, tutti i rilasci negli anni. Ubuntu nasce nel 2004. I salti di versione sono di 6 mesi in 6 mesi e ogni due anni, vedete, nel 2006, nel 2008, nel 2010 e così via, viene rilasciata la LTS. Una piccola chiecca, il nome in codice della distribuzione praticamente prende il nome di un animale con un appellativo. E segue, ovviamente, un ordine alfabetico, C, D, E, F, G. Quando si arriverà all'ultima lettera, come in questo caso, nel 2017, ovviamente si ricomincia da capo. Quello che non mi piace di Ubuntu sono proprio i rilasci, secondo me, semestrali. Secondo me, bisognerebbe creare una distribuzione un po' più solida, quindi, secondo me, bisognerebbe puntare più sui rilasci LTS. O al massimo fare, dal rilascio di una LTS all'altra, quindi sono due anni, fare solamente un rilascio annuale, nell'anno intermedio. Quindi, se io rilascio la LTS nel 2018, al massimo faccio un nuovo rilascio nel 2019 e poi passo al 2020. Fare due rilasci all'interno dell'anno a me non è mai piaciuto, anche perché, quando passo da una rilisa all'altra, ho trovato alcune volte qualche problemino con i drive grafici e i drive della scheda wireless. Quindi, vi consiglio di scaricare la LTS e di usare questa, diciamo, questa edizione speciale di Ubuntu. Usa Debian, ovviamente, è una distribuzione che è nata, che nasce Ubuntu dal ramo instabile di Debian, quindi vi troverete a usare pacchetti.deb. Niente, che dire, per me, ve lo ripeto, per me è una distribuzione solida, buona, a me piace. Un'ottima comunità, derivate, ci sono anche tante altre derivate non ufficiali, quindi potete spaziare quanto volete e trovate sempre, comunque, qualcuno disposto ad aiutarvi, perché il supporto è veramente infinito, infinito. Bene, ragazzi, con questo è tutto, io vi lascio. Vi invito a mettermi un bel like al video e ad iscrivervi al mio canale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.